Ma che anni erano, Luca, questi qua? Eh, che anni erano? Intanto eravamo più giovani. Vabbè, ma sei sempre un bell'uomo, Luca, non buttatemi. No, ma non è quello, è che comunque... Allora, ti faccio... Prendi quel Forza Milano Questo qua? No, l'altro. Eh, qua erano tutti giovani, eh, i copertini. Guarda, ti faccio vedere le facce di Maldini e di Tassaro, guarda come eravamo, come erano loro. Eh. Guarda cosa c'è scritto sotto. Ma vedremo anche... Guarda cosa c'è scritto sotto. Il nuovo San Siro. Stiamo parlando di Forza Milano dell'87. Attualissimo. Si parlava del nuovo San Siro, sì. Però in realtà qui si parlava del Terzo Anello, dei lavori per i mondiali del 90, eccetera, eccetera. Però, insomma, erano anni molto particolari perché il Milan arrivava da un periodo pazzesco di alti e bassi, sembrava di essere su un otto volante. C'era stata la gestione di Giussi Farina, c'erano state delle illusioni, l'acquisto di Gheres, che era il capitano del Belgio, un terzino fantastico, arriva, segna, tutto. Dopo pochi mesi viene arrestato perché si era venduto le partite in Belgio. Tra l'altro, guarda qua, cosa è in mano. Sembra fatto apposta, ma non è così. Sì, sì. E tra l'altro sul Forza Milan si chiedeva... Era marzo dell'84, quindi era sì, lui era... Marzo dell'84 viene spedito perché era entrato in questo pasticcio di calcio scommesso di Terza. Quindi nell'86 arriva Berlusconi e cambia un po' le cose. Allora, che anni erano? Io vado a Forza Milan, poi ne parliamo con calma, che è questo mensile creato negli anni Sessanta, quando si dice che il Milan è avanti, è avanti in tante cose. È stato il primo club ad avere un house organ, si dice adesso, il mensile della società, si diceva allora. Negli anni in cui sono venuto al mondo io, c'era Gino Sansoni che fondava Forza Milan, l'hanno portato avanti poi da Taccol, da Renato Ferrari per tantissimi anni. E sai, devi inquadrare bene una cosa, cioè all'epoca non è che vedessi molto calcio in tv, leggevi la gazzetta perché il Corriere allo Sport è tutto sport, ancora dovevano sbocciare, diciamo, e poi i quotidiani politici davano poco spazio. Avere il mensile della squadra con le fotografie delle partite era una cosa pazzesca per i tifosi perché c'era una sintesi in televisione, parliamo degli anni Sessanta, poca roba, vedevi a malapena le finali di Coppa dei Campioni in tv, un tempo di una partita e quindi è stato il primo club ad avere questo mensile. Era una cosa importante perché intanto ti faceva vedere delle cose che non vedevi, anche la foto di un gol era suggestiva e soprattutto ti consentiva di conoscere un po' meglio i giocatori, perché c'erano interviste fatte in casa, alle mogli, era ovviamente un'altra cosa, non c'era un quotidiano che andasse a fare delle interviste private in quel momento, i quotidiani erano molto tecnici. Quando Berlusconi prende il Milan trasforma anche il giornale, trasforma il mensile che Dami in stile di club entra a far parte delle grandi sorelle del gruppo Silvio Berlusconi Editore che era capitanato da TV Solis e canzoni, 3 milioni di coppie alla settimana, il settimanale più venduto d'Europa. Luca, l'importanza delle foto è vero, l'importanza... Ma noi vogliamo vederti, noi ti abbiamo visto, perché guarda qua che contributo abbiamo raccolto, perché tu ci sei, ovviamente, come inviato... Parti già avanti, qui siamo verso... Ti facciamo un salto importante. Eccomi là. Questa è la finale del 1989, la finale, la partita unica dell'Intercontinentale, all'epoca, da tanti anni, era una partita sola, fra la vincente della Coppa dei Campioni in Europa e la Libertadores in Sud America. E c'è il Milan National Medellin a Tokyo. E guarda lì dietro. Dietro c'è Luca Serafini, dietro è in vita. Eccomi qua, tac, 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 tac. Ma che roba? Cosa ci facevi dietro? Allora, l'anedotto fa ridere, perché io e Gianni Buzzi, i fratelli Buzzi, Gianni e Marco, abbiamo vissuto quegli anni lì, dall'87 in poi, sempre appresso al Milan. Noi eravamo sulla squadra, sull'aereo della squadra per le trasferte a Milanello, la mattina degli andamenti, eravamo ovunque lui, perché i quotidiani giornalisti partivano per il conto loro, c'erano soltanto Rai e Mediaset e i quotidiani sportivi più importanti, quindi c'erano dieci giornalisti. Ma io e Gianni Buzzi eravamo sempre lì. Allora, Gianni Buzzi, la mattina della partita, si giocava a mezzogiorno a Tokyo, in Italia erano le quattro della mattina, mi dice, fammi una cortesia, io ho tutte le borse, gli obiettivi, il canocchiare, ti faccio la credito, non guardarle in tribuna stampa, vieni in campo, in modo tale che mi aiuti a portare la roba, tanto tu poi quando torniamo in albergo è il tempo per scrivere, torniamo in albergo che in Italia sono le otto, le nove della mattina, le dieci, quindi tutto il giorno, e allora mi dà il pazzo e vado in campo. Io soffro come un pazzo, sono a bordo campo, una partita collosa, non finiva mai, noiosa, una delle più brutte partite europee, perché anche il Medellini, il Maturana era un idolo di Arrigo Sacche, la pensava con lui, pressing fuori gioco, quindi non succedeva niente, e in più queste trombette, per 120 minuti, finalmente segna quel gol, Kiko Ivani, pazzesco, e io sono dietro la porta, perché Gianni faceva le foto dietro, e sono l'unico che si alza, vuoi farlo rivedere? Rivediamo, perché quando io esulto, in tempo reale, mi ricordo, faccio un interlocario, che sono dietro la porta, fra i fotografi, quindi mi rimetto subito a sedere, un pirro, sembrava, questo invece Gagliani aveva meno problemi, si è buttato in campo, è entrato, è esultato, pensa che questa partita qua, è una delle poche in cui mi sono commosso, mi sono messo a piangere, mi sono un po' inumidito gli occhi, perché? Perché alla fine della partita, io ero contento e basta, poi ero stordito, le trombette, che però durante la partita le senti meno, ma mi viene incontro, Paolo Taveggia, il direttore generale del Milan, eravamo molto legati con Guido Susini, che era il capo della comunicazione, ci abbracciamo noi quattro, con bussi che avevamo molto insimbiosi, e loro erano commossi, piangevano, e quindi io di colpa, le emozioni che ti dà il Milan, dai, le emozioni che ti dà il Milan, questo qui è stato il punto più alto, del primo ciclo di Berlusconi, perché ha fatto Scudetto, Coppa dei Campioni, e Intercontinentale, che ti ripeto, era una partita solo a Tokyo, ed era molto vissuto, e fu anche il primo grande evento di Telepiu, che doveva nascere in quel periodo lì, era una prova, perché poi sarebbe nata nel 91, ma fu trasmessa, se non mi sbaglio, dalle reti fine invece. Abbiamo fatto un salto in avanti, però nel ripercorrere la storia di Forza Milan, la storia di questi giornali, attraverso la tua penna, perché poi fondamentalmente, questi Forza Milan qua hanno la tua mente, la tua penna dentro, abbiamo anche dei contributi video, e delle interviste, anche per, prima hai citato Gerez, abbiamo trovato nell'archivio, grazie al nostro Cristian Danzo, non solo archivio cartaceo, ma anche archivio video, delle interviste carine, allora hai citato Gerez, e ripercorriamo anche storicamente, quei momenti con questa intervista, guarda un po'. Dunque dopo il fascino, sempre crudele dei calci di rigore, toglierà un po' di spazio i nostri commenti, a caldo diciamo, però avete visto che le emozioni davvero non sono mancate, subito in studio un vincitore, un vincitore di cui abbiamo parlato anche prima, e del quale sicuramente in Italia abbiamo tutti un ottimo ricordo, lo vedete già, è Eric Gerez, ciao Eric, ciao, è benvenuto soprattutto tra noi. Una vittoria difficile, questa partita l'avete persa, poi vinta, poi persa, poi vinta ancora tante volte. Sì, penso che il primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene, poi il secondo tempo abbiamo sbagliato a dieci minuti della fine, una bella occasione, poi siamo un po' stanco, anche gli inglesi, e per fortuna abbiamo vinta con i regori. Stavate dominando, poi stavate sprecando, forse una vittoria già acquisita. Sì, ma contro una squadra inglese è sempre difficile di giocare, anche quando penso che sei il migliore, bisogna fare attenzione a 90 minuti contro delle squadre come le inglesi. Che effetto ti potrebbe fare, ora che sei in finale, per tua fortuna, a ritrovare il Milan, sinceramente, ti batte il cuore? No, per me era più importante vedere di nuovo i tifosi del Milan, e poi qualche giocatore con chi ho giocato insieme. Tu con che spirito ricordi, diciamo, la tua esperienza nel calcio nazionale, nel calcio italiano? Ogni volta che vengo in Italia ho un malo al cuore, perché io avevo un contratto per tre anni, avevo già detto alla moglie, sì, noi possiamo stare in Italia per tre anni, allora stiamo per tutta la vita di qua. Quali sono i giocatori del Milan che rivedi reincontri con miglior simpatia? Tassotti, Baresi, Evani, e soprattutto Icardi, però Icardi è andata via adesso, però era il mio amico. Le squadre sono in campo, hai voglia di fare un pronostico? Spero che vince il Milan, così possiamo fare un bel finale domani. Grazie Gerets, buona fortuna, linea alla regia. La cosa bella Luca di queste interviste, non è tanto quello che dice, anche perché poi è molto sull'attualità dell'epoca. Io parlavo bene già in Italia, e sono in Italia a pochi mesi. Però, esatto, la lingua, ma anche la cultura, lo stile, il viso, il fatto di andare in uno studio televisivo con le scarpe da calcio, e vestito da giocatore. Insomma, sai, tutti, sono passati soltanto 40 anni, ma è passata forse più di una generazione, sono passate quante epoche del calcio, in 40 anni tantissime, era proprio un altro tipo di vita quotidiana, anche per la stanca, anche per i giornali. Tu pensa che 40 anni fa, quella è stata sicuramente una delle prime cose che fece Mediaset, e c'era prima solo la Rai e un pochettino Tele Monte Carlo, che era stata un po' il precursore di Fininvest. ma tu vedevi una partita, un tempo di una partita alle 7 di sera sulla Rai, poi comincia a nascere, poi c'è la domenica sportiva, novantesimo minuto, poi la Rai con, scusa, Mediaset, con Pressing, Vianello, e piano, 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 negli anni 90, cominciano, ma stiamo fermi, a Mediaset e alla Rai, e comincia un po' più il calcio in televisione. Quindi anche il rapporto con i giocatori e la vita dei giornalisti vicino alle squadre era diversa. Tu potevi concederti certe confidenze, conoscerli meglio, frequentarli un po' di più. È chiaro che poi, vivendo io in quel Milan, con il giornale, io accettai di andare a Forza Milan, da Super Bowl, io lavoravo a Super Bowl con Maurizio Mosca, che era del gruppo Peruzzo, non sarei mai andato in un giornale di club a 26 anni, perché stavo iniziando la mia carriera. Ma lui, Maurizio Mosca, mi spinge ad andare, dice vai, perché è il gruppo Silvio Berlusconi di Torre, è legato a Fininvest, è legato a Mediaset, quindi è una grande opportunità per te. Lui già lavorava e collaborava per Fininvest, e quindi, nel giro di pochi mesi, abbiamo cominciato a curare dei programmi insieme, e quindi è stata una scelta oculata, ovviamente. Tra l'altro, ritorniamo anche sulla redazione, perché qua, comunque, questa è la redazione di Casamina, la redazione 4.0 di quello che era Forza Milan, una volta, se possiamo dirlo, e abbiamo delle foto, della prima storica redazione, una delle prime, diciamo, dove tu facevi parte, abbiamo delle foto, guarda qua, questa è storia. Mi hai detto che anni erano all'inizio del nostro incontro. A sinistra c'era Angelo Pinasi, che era un giornalista che arrivava... Ma che bell'uomo che eri, Luca, cioè non che adesso, però voglio dire... un po' come me, con magliettina, giacca... Un po' meglio di te. Allora c'era Angelo Pinasi, che arrivava, era in pensione, arrivava dal giorno, collaborava, grande milanista, lui era stato il terzo grande giornalista sportivo del giorno, insieme a Gianni Brera e Gian Maria Galzanigo. Poi c'era Martino Pizzi, che era il direttore di Forza Milan, ma lui in realtà era a TV Sorrisi e Canzoni, faceva supervisore, eccetera, ma veniva qualche trasferta, ma in redazione c'ero io, e Edoardo Testa. Edoardo Testa è il figlio di Arturo Testa, io sono il vento, cantante che tu non puoi conoscere, non puoi ricordare, ma Arturo Testa è stato... Eccolo, seduto sotto la finestra, dove c'era, vedi, quel bel adesivo che dava in corso Europa, e sotto c'ero io con in mano la copertina. Ma sai che ce l'abbiamo quella copertina lì? Da qualche parte. Adesso rivolgo la foto, me la rifai? No, quella è quella degli scudetti. Adesso la vado a prendere, la voglio cercare. No, rifacciamo quella foto con te adesso. No, in quegli anni lì, in quegli anni lì, io frequentavo molto i giocatori anche fuori, e avevo dei ricambi femminili, perché ero single, Ah, andiamo sul... Sì, andiamo in questo aneddoto, perché mi fa sempre ridere, e glielo ho ricordato qualche tempo fa a pranzo, ti ricordi il lupo Roberto Lorenzini? Sì. Un terzino che ha giocato, è cresciuto nel Milan con Costa Curza, con Maldini, poi è andato al Como, poi è andato all'Ancona, poi ha giocato nel Torino, nel Genoa, ha fatto una bella chanella in Serie A. Siamo rimasti amici, siamo rimasti amici, perché in quegli anni lì, io ho avuto tre fidanzate, tutte e tre, tre fidanzate, tre ragazze, e tutte e tre, le volte, dopo un po' queste mi chiamano, ma giocano uno sciroberto Lorenzini, perché lavori nel calcio, eccetera, una era tedesca, una era inglese, e una di Milano. Allora, un giorno l'ho preso, gli ho detto, senti una cosa, cioè, facciamo pace con questa roba qua, cioè, non so se, devo avere qualche località specifica, dove andare, dove tu non sei stato, e parlandone qualche giorno, a parlando qualche giorno di farlo, Lorenzini ha detto, guarda che ce n'è stata una quarta, però non te l'ho mai detto, perché è stata dopo di te questa volta. Eravamo molto giovani, andavamo molto in giro, eravamo da soli, soprattutto io e lui, perché i calciatori di Milano, in realtà, poi erano, di quell'epoca lì, dell'86, erano tutti capi famiglia, se mi ricordo Giovanni Galli, Tassotti, Baresi, Paolo Maldini, anche legato a Adriano da quegli anni lì, Donadoni, tutti accelotti, erano tutti già casati, Van Basten e Gullit, quando sono arrivati, quindi ero, un uccello migratorio, intorno alla squadra, insomma, ci sono anche questi aneddoti piccanti. E allora da seguire, guarda io vado a casa, per riascoltarmeli, e a proposito di questo, abbiamo, vabbè, i primi forza Milano, perché poi il Milan arriva a Berlusconi, e addirittura Forza Milano, sì, questo, allora, prima, questo qua, arriva a Berlusconi, febbraio 1986, e giustamente Forza Milano, che all'epoca, era di un gruppo editoriale, legato al club, che Berlusconi tiene ancora vivo, per qualche mese, qui siamo nel febbraio 86, quando Berlusconi compra il Milan, il Milan è sull'urlo della bancarotta, del fallimento, rischia grosso, rischia di sparire, lui prende il club, e prende anche il mensile, io sono a Supergol con Maurizio Mosca. Quando c'è la presentazione vera e propria, della sua prima squadra, nell'86, quando prende Galderisi, quando prende Giovanni Galli, Massaro, insomma, c'è la famosa giornata degli elicotteri, in cui porta la squadra all'arena di Milano, con gli elicotteri, fra l'altro piove, nonostante fosse luglio, quando arriva l'elicotteri, comunque una brutta giornata, poi ci si trasferisce tutti ad Arcore, la squadra poi nel pomeriggio parte, va a Vipiteno, invece Berlusconi rimane in giardino, con giornalisti, come ti ripeto, eravamo una decina, una dozzina, non di più, perché c'erano le testate dei giornali maggiori, la RAI, credo fosse già andata via, e finì in Vespure, quindi eravamo veramente pochi, che c'erano io e Maurizio Moschi, Berlusconi scriveva la giacca, rimane in camicia, si mette in giardino con noi, e comincia a parlare degli stadi numerati, che lui aveva in testa degli stadi coperti, tutti numerati, vietare le trasferte per non avere incidenti, il Milan in borsa, che è l'unico progetto che non ha mai mantenuto, e tutta la filosofia che lo avrebbe accompagnato a diventare... Infatti qua c'è anche la prima intervista storica di Berlusconi, così farò grande il mio Milan, se vuoi farlo vedere con le immagini anche dell'elicottero, e dopo, guarda, poco più avanti... La pagina della Gazzetta dello Sport, che evoca il suo primo atterraggio a Milanese, in elicottero, e poi la sua prima intervista, sai Berlusconi comincia a dire, riporterò il Milan in testa, ai vertici dell'Italia, dell'Europa e del mondo, quindi la spara bella grossa. E la stampa come l'ha presa? Come l'ha presa la stampa? Con una discreta... La stampa era un pochino più prudente, Stefano Tacconi invece, quando il Milan atterra con gli elicotteri all'arena, dice gli serviranno per scappare per tutte le partite che perderanno, non ci aveva visto lungo, lo racconto perché Stefano poi è diventato anche un amico. Quando lui è arrivato, è una sfida molto grossa, è una sfida molto importante, a Vipiteno, poi andiamo io e Maurizio Mosca, per la prima amichevole del Milan di Lidl. Per chi non lo sapesse, prima il ritiro non era a Milanello. No, 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 infatti poi ne parleremo negli anni, in Pessi andava, il Milan andava a Vipiteno, all'hotel Aquila Nera, se non mi sbaglio, e ci stavano a 15-20 giorni, c'era l'idea che l'ossigenazione in montagna, nel ritiro precampionato facesse bene, ci si conosceva, quindi stavano 15-20 giorni, ancora adesso ci sono tante squadre che fanno il ritiro precampionato lontano. E ci fu, prima della partitella del pomeriggio, questo pranzo a Vipiteno, noi siamo partiti molto presto alla mattina con Maurizio, questo pranzo con Berlusconi, Lidl, io, Maurizio e altri 7-8 giornalisti. E Lidl, siccome erano molto amici con Maurizio Mosca, era seduto alla mia sinistra qua, qui c'era Mosca, poi c'erano altri giornalisti e Berlusconi capotavolo. A un certo punto, io fra una portata e l'altra, lo posso dire, mi accendo una sigaretta, e la tengo però sotto al tavolo per non disturbare, e vedo che Lidl si tira leggermente indietro, e gli chiedo, mi scusi, mi stai da fastidio? Lui non risponde, mi guarda e mi dice, quanto fumi? E io mento, ma a poche, 3-4 giorni. E lui mi dice, diceva un mio vecchio massaggiatore, se tu vivi da vecchio quando sei giovane, puoi vivere da giovane quando sei vecchio. Non ho fatto in tempo a dire, aveva ragione, e lui mi dice, io ho sempre vissuto da vecchio. Lidl, un grande battutista, delle battute con Maurizio, che ti raccontano nel tempo, meraviglioso. Era, veramente, capisci, un'altra cosa, no? Poi il pomeriggio c'è la partita, c'è anche Lorenzini, fra l'altro, perché abbiamo rivisto la foto in quel periodo lì, ed è il primissimo Milan di Berlusconi, che poi arriverà in primavera, in modo così, così, perde una partita ad Ascoli, il Milan, e il lunedì sera, Maurizio Mosca va al processo del lunedì, di Biscardi, era la trasmissione cult del tifoso, quella lì dove si dire, zuffavano, eccetera, e a un certo punto, Maurizio Mosca dice, perché tutti gli altri giornalisti dicono, eh, ma Berlusconi continua a essere invadente, dice lui a Lidl, quale formazione vuole fare, gli dice lui quali giocatori mettere, e a un certo punto Mosca dice, ma scusate, qual è la differenza, eccolo qua Maurizio, la differenza, tutti i presidenti vogliono fare la formazione, Berlusconi è l'unico che lo ammette, ma tutti sono così, Martedì mattina, siamo in redazione, suona al telefono, noi eravamo in Open Space, eravamo in quattro, in redazione, più Maurizio Mosca, perché era un mensile, suona al telefono, le rispondo io, della redazione, perché te venivano smistate la centralina e la perruzza, pronto, buongiorno, sono Marinella, la segretaria del dottor Berlusconi, voleva parlare con Maurizio Mosca, da Arcore, allora, un attimo solo, dico io, Maurizio Lì, io copro il microfono, dico, c'è una che dice di essere la segretaria di Berlusconi, e lui, annoiato, dice, ma che è una mitomane, dico, non lo so, vabbè, passa, andi alla panna, pronto? Ma sei fuori, è lui, era veramente Berlusconi, gli diceva, allora parla, lui sta zitto, una cosa inimmaginabile, Mosca che sta zitto, credo 20 minuti, e Berlusconi che lo ringraziava, perché l'ha capito, comincia a parlare, a un certo punto, Mosca esplode, e senta Berlusconi, con tutto l'affetto che lo vuole, lei ha due problemi grossi, lei deve cacciare Lidl, Mendro Montanelli, perché nel frattempo, Berlusconi era anche editore, del giornale, e lui deve cacciare Lidl, Mendro Montanelli, come? Da solo, dice, come? Sì, perché non c'entrano niente con lei, sono due uomini che hanno fatto la storia del calcio e il giornalismo, ma lei se ne liberi, perché tutti capiscono che c'è in sofferenza, non in questi tempi, grazie, arrivederci, e mi guardi se glielo ho detto, infatti di lì a poco, Lidl viene promosso direttore tecnico, Capello viene messo in panchina a fare l'allenatore, Berlusconi è molto bravo, l'ha promosso direttore tecnico, con Montanelli e poi la successione è stata un po' diversa, la storia, ma insomma questo era, no? E poi l'altra grande telefonata tra Mosca e Berlusconi, prima che io andassi via dal Supergold, è che quando lui manda via Lidl e Mosca ci rimane male e prende il capello, un giorno lo chiama lui, lo chiama e fa, senti il presidente, posso dire una cosa? Ma perché lei invece di prendere il capello, accatasti a Milanello un preparatore atletico e basta, poi va su lei il sabato, fa la formazione, fa la tattica e va in panchina la domenica. Come? E là gli diceva, ma sì se avevo tessi, se avevo tessi, quando mette giù il te, la connetta, mi diceva, beh ce l'avevo qua, gliel'ho detto. Caccio l'allenatore, prende un preparatore atletico e fa sotto lei, forse non era male. Poi ne parleremo anche più avanti, però ho puntato Telegatto e Gulli, tio, aiutami. Sì, sempre un passo avanti. Il Telegatto era la più grande manifestazione di TV, sull'Ise e canzoni, che era il papà di tutte le riviste del gruppo Silvio Berlusconi, c'era Forza Milan, c'era Ciak, c'era tutto musica e spettacolo, c'era un altro, quelli Tascabli, si chiamavano di televisione, c'erano 5-7 estate, molto importanti. Gigi Vesigni al direttore di Forza Milan e al direttore di Torrice e canzoni, che ti ripeto era il mensile più venduto d'Europa, e organizzavano il Telegatto, che si teneva al nazionale di Milano, presentava Corral, Mike Bongiorno, Pippo Baudo, quello che era, e io ci sono andato diverse volte, ovviamente una volta insieme a Batantuono, era una bella serata, arrivavo sempre con la limusine, venivo straconsiderato da tutti, anche se non c'entravo niente. Allora, quello che era lì, Lidl, scusa, Gullit si era già lasciato dalla moglie, che era rimasto single, e io accompagno Cristina Pensa, ai Telegatti, eravamo insieme ad altri fotografi, eccetera, ecco qua Gullit con Cristina Pensa. E Cristina Pensa, poi andiamo a cena, quindi tu hai presentato... Andiamo a cena, e Cristina Pensa si mette a cacchierare, con Gullit, poi io l'accompagno a casa, lei stava in le parti di Piazza Repubblica a Milano, perché eravamo amici, ci conosciamo per soddisfare le canzoni, eccetera, e mi dice, ma quel Gullit lì, come è? Dico, ma sì, gli racconto, lui aveva avuto una storia un po' particolare con la moglie, e che si erano lasciati, gli dice, dai, fai in modo che ci si riveda, noi organizziamo qualcosa, è simpatico, è interessante, eccetera, e poi è nata una lunga storia, una lunga famiglianza. Ma pensa a te. Sì, sì. Beh, molto, 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 molto interessante. Io tra l'altro stavo guardando qua, stavo sfogliando, hai trovato Vesigno? Ho trovato Gigi Vesigno, ho trovato il nuovo Milan, quello che è stato il primo Milan con il plebiscitario, sia Berlusconi, e il Milan è la ciliegina sulla torta, nuovo presidente e cavaliere del lavoro, Silvio Berlusconi, l'ultimo acquisto del patron del gruppo Fininvest, gruppo con 6.000 dipendenti, e c'è una foto storica, che è quella di Berlusconi, se lo tieni pure così, lo inquadra anche così giù. Guarda, del taglio della torta. Del taglio della torta con Franco Baresi. Allora, questo è sicuramente Gianni Nardi, che era stato quello che più di tutti, era il vicepresidente di Farina, milanista, sfegatato, matto, era il proprietario delle cucine Nardi, che era uno stabilimento che si vedeva dalla tangenziale, andando da Via La Certosa a Sesso San Giovanni, poi Berlusconi, Franco Baresi, e questo era il presidente, che era stato il presidente traghettatore, tanti anni prima, fra Colombo e la nuova gestione, che era Pardi, se non mi ricordo male, era Pardi, comunque insomma, al di là di questo, questo era il gruppo Fininvest, aveva già televisione, edilizia, finanziaria assicurativa, editoria, e il milan era, divenne la ciliegina sulla torta, perché arrivava da anni, turbolenti, una presidenza Farina, che stava conducendo il milan, sull'orlo del fallimento. Tra l'altro, sfogliando lo stesso anno, poco dopo, il nuovo milan viene presentato, con la foto di un Donadoni, con la maglia dell'Atalanta, poi vedremo, nel prossimo appuntamento, le immagini di Berlusconi, che arriva con l'elicottero. Ma all'acquisto di Donadoni, te lo devo raccontare. E allora, me lo racconti nel prossimo appuntamento. Va bene. Cosa dici? Na prossima. Grazie a tutti.